Buongiorno Genova. Le discussioni sulla legge ZAN hanno fatto diventare abbastanza diffusa, almeno sui giornali e nei mezzi di comunicazione, una parola piuttosto recente, anzi recentissima, nell'italiano, cioè omotransfobia, l'avversione, l'odio nei confronti degli omosessuali e dei transessuali, uno dei crimini contro l'orientamento sessuale e l'identità di genere che una persona si riconosce. Questa parola è già da qualche anno che circola in ambienti molto ristretti ed è diventata invece di dominio pubblico soltanto in tempi recenti. È calcata su un precedente che è più diffuso, è più noto, che è quello della omofobia che esiste in italiano ormai da qualche decennio e che sta a indicare oggi il senso appunto di avversione, odio per gli omosessuali. In realtà nei primi usi della parola omofobia, sulla quale, ripeto, è calcata l'attuale nuova omotransfobia, il significato preciso era paura di essere considerati omosessuali, da cui poi si è generata il significato di avversione, contrarietà, addirittura odio, ripugnanza nei confronti degli omosessuali. È lo stesso significato di avversione, di odio, nella fobia omotrans di cui si discute oggi. La cosa abbastanza interessante è che questa parolina fobia, che è all'origine, che alla fine della parola che consideriamo, in genere significa paura, no? Chi è per esempio, che so io, claustrofobia, soffre di claustrofobia, è uno che ha paura dell'acchiuso, non ha odio, ma avversione. Da questo significato di paura, va bene, che è maggioritario, nel senso che ricorre nella maggior parte delle parole che contengono la parolina fobia, va bene, si è poi passato a quello di avversione di odio, che è quello che noi abbiamo nel significato attuale di omofobia e di omotransfobia, di sessofobia, di xenofobia, va bene. In fondo questo passaggio di significato non è che così strano, perché di ciò di cui si ha paura, poi, proprio per tenerlo, come così dire, lontano da sé, si finisce anche per sviluppare una forma di avversione e quindi di odio, si pensa all'idrofobia, che è una avversione e una paura al tempo stesso verso l'acqua. Ecco, quindi è uno slittamento semantico, dalla paura all'odio, che purtroppo avviene e che questa parola sta a rappresentare per quanto riguarda l'omosessualità e la transessualità. Grazie, buongiorno.